Abbiamo fatto un po' un esame tecnico di questa specialità, altre in altre occasioni. Sessione in quarta Kingdom, in prima Jackson. Partenza valida, Jackson è in testa, in prima cortina Jackson. Jackson ancora, Jackson ancora con l'attacco di Kingdom. Kingdom che passa, Kingdom che passa su Jackson. E qui sulle ma a vincere il 12 al 12 al 12. Record del mondo! Record del mondo! Record del mondo centrato! Piston 0.1, silenzio al contrario! Silenzio al contrario! Un tempo, la prima volta che va a vincere il mondo accende sotto i 12 al 90. I candidati che si apprezzano Greg Foster e Kingdom, due vittorie mondiali e due vittorie olimpiani. Grande affermazione, peccato questa pacchetta di Di Maia. Sembrava prevedere proprio questa caduta del suo regolo del mondo. La nostra partecipazione è qui. Di Maia è cancellato, Leo. 12.92 da adesso il tabellone elettronico.